Io non ci ho più fatto caso, perché prima del decollo il personale di cabina deve svolgere diverse cose. Ci sono da fare molti controlli a bordo e nessuna di noi ha notato niente dopo che i piloti hanno chiuso la porta. Io credevo che fosse già sceso prima della chiusura dei portelloni. Anche Tania De Domenico finalmente in live. Tania De Domenico oltre ad essere una delle voci più note a Milano è anche una delle voci più note in Italia. Una grande doppiatrice, una professionista, un'attrice eccezionale e soprattutto lasciami dire che sono veramente onorato che tu ci sia nel cast. Benvenuta Tania nel cast di live. Grazie Alex, grazie mille. Sono io che sono molto onorata di far parte di questo progetto perché è semplicemente unico. Quindi sono io a ringraziare te, a ringraziare tutto il cast di Life e vedrete che uniti ce la faremo. Ciao! Life, il primo film senza immagini. La realizzazione di una colonna audio dove l'immaginazione è la grande protagonista in grado di proiettare ciò che non vedrai. Pensavo questo di te l'altra sera e sono stato tentato di chiamarti. Film senza immagini, perché l'emozione la vivi ascoltando. Cosa stai facendo? Fammi uscire! Life, con le voci più famose che hai conosciuto al cinema e in tv. Vede John, io ci sono già passato per situazioni come questa. Mi dispiace ma io non mi fermerò. Life, il primo film senza immagini. Chiudi gli occhi e vedrai. film senza immagini.net